Non guardiamo i confini, apriamo gli orizzonti e scopriamo che i posti letto ci sono, ad esempio ci sono da noi, creiamo le infrastrutture per collegare Cortina al resto del mondo e assolutamente Treviso può offrire tutti i posti letto che servono per le Olimpiadi di Cortina che noi ovviamente auspichiamo. Inizia con una punzecchiatura gli albergatori bellunesi, l'era Capraro all'Ascom di Treviso. Oggi la presentazione della Giunta che guiderà l'associazione fino al 2024 con il Presidente Veterani e Nuovi Volti e con loro il nuovo direttore Vito Monaco ma soprattutto la volontà di trasformare l'impresa del terziario in impresa innovativa. Presidente, in uno slogan la sua mission di mandato? Un futuro da rappresentare interpretando gli interessi nuovi e gli interessi emergenti dei nostri soci. Un giovane Presidente Federico Capraro ha 44 anni ma ha idee chiare soprattutto nel confronto con le istituzioni alle quali manda sin da subito un messaggio chiaro sulla gestione dei territori. La pianificazione non può prescindere dal valore della prossimità. I negozi di prossimità sono presidio urbano, servizio pubblico, sicurezza, ordine, pulizia. Ecco perché noi rappresentiamo questi interessi e a loro diciamo confrontiamoci e pianifichiamo insieme. Ascom che non teme il centro commerciale all'interno del centro storico come ad esempio in Piazza Borsa a patto che sia di qualità. Un grande contenitore che dia la possibilità di ospitare un grande brand che sia un richiamo, un'attrattiva è assolutamente una cosa che guardiamo positivamente per tutto il commercio della città. Comercianti in guerra soprattutto con chi punta a rendere Treviso un dormitorio per ricchi. I grandi contenitori, i grandi metri quadri vanno riempiti da tante persone e non da single che vivono a Milano dal lunedì al venerdì per lavoro e rientrano in città il sabato e domenica. Noi speriamo a una residenzialità per famiglie.